Ok Quanta luce però questo posto Proseguiamo Verso il monte Olinipo Vediamo se posso fare No eh Speravo di fare la cosa che scivolava Sulle ringhiere come Nel 2.8 La luce però Mi sta uccidendo Ok Adesso è tutto distrutto Ma no Strano ma vero no Sì Sora Madonna Oh no La musica classica I minotauri Cacchio Isfondiamo ora Aiuto Non ho idea di cosa io debba fare Allora Vai Forza Abbagliante Bravo Pippo Ora sì che sono devoli Non vedo l'ora di avere L'abilità Quella che mi fa Ritornare Incarreggiata una volta che Cioè quando mi lancia Mi riprendo subito Non vedo l'ora di averla Quella abilità Il tiro Il comando di tiro ti permette Di agganciare più nemici Oppure lo stesso Ah ok E di sparare Tieni premuto R1 E usa Ok Tipi di tiro Ciascun Kivle Della barra fusion Abbiamo sbloccato La barra fusion Io attivo La seconda fusione Ok Allora se lo schiaccio Una volta Aggancio il nemico Se lo tengo premuto Attivo La 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 mira Ah guarda Ora c'ho anche I Le sfere Per la Per la barra Mannaggia Per la barra fusion Vediamo dentro qua Cosa contiene Un rifocus Fammi indovinare Questa cosa Mi permette di Avere subito Una barra focus Certo che L'olimpo E' più grosso Di quanto sembrasse E anche Più Pieno Di scale Un'altra Fluo Lì E una Scheggia Di mezzo Era lì E L'abbiamo Tolta Oh guarda Un altro nemico Della sabbia Che poi Secondo me Quella cosa lì Che se Attacchi con Pippo E lui lo ingoia E muore subito Era una roba Mega nascosta Era una roba Comunque Che boh Non doveva essere Così palese Aia Aia Bene No Lui E non è ancora morto Dai Pappugino Meteora Dai non è morto Neanche così Ah ok Pareva un po' Sarano Effettivamente Devo ricordarmi Di usarlo Questo attacco Ogni tanto Giusto per vedere Anche com'è I corridoi Questa è la mappa Per fortuna Spero Spero Che fosse la mappa Però Giusto per essere Un po' più Qua Ah no Pensavo che era Un oggetto da prendere Invece erano Il risplendere Del coso di salvataggio Salviamo Sempre Qua Ah cacchio Ah che bello Aiuto No Fermo Devo Amicare Lo Lì No Ok Visore E ora siamo Anche invincibili Ah no In realtà Non siamo Invincibili Durante questa Modalità È solo che Possiamo Sparare più colpi Assieme Quindi Basta Non ci sono Ah no Eccolo là Beh dai Sto dice Prima dicevo Che Allora Ammetto che Quando l'ho visto La prima volta Non mi faceva Impazzire Questa idea Del Degli attacchi Di Disneyland E anche adesso Sono un po' Contrastante Su questa idea Ma devo dire Le sfide Scivolose Quando stai Affrontando Una sfida Scivolosa Dovrai Difenderti Degli Nemici Usa L Per prendere La mira R2 OX Per sparare Ok Ok Andiamo Allora Ah ok Ah posso Tenere anche Premuto Perfetto Però è Non posso Tenerlo Premuto Per sempre Aia Ok Interessante Come meccanica Un po' Lenta Come cosa Diciamo Siamo Ah si È probabile Che siamo Arrivati Morite E non sono Morata Alla E Morata Cos'è No dai Adesso Paperino Fa anche Gli attacchi Magici Che noi Possiamo Sfruttare Che cosa Fighissima Aspetta L'ho Visto Sto Arrivando Molto Lentamente Ok Quell'attacco Lì Abbiamo capito Che è Utile Contro I minotauri Contro Qualsiasi Altro Nemico È Solo Molto Lento Ma se Io Tornassi Indietro Sono Un po' Confuso Non so Bene Dove Devo Andare Ah che Bello Puoi scivolare Anche Sull'acqua Aiuto Arrivo La cosa Noi Noi Ok La cosa Noi Non posso Usare Alcuni Incantesimi Mentre Sono In salto Questa Cosa È Un po' Strana Ok Ah guarda Siamo tornati Dove eravamo Prima Perfetto Aspetta Guarda che qua C'era una scala Secondaria Con Un trofeo Una scheccia Dimitri Ah cosa Sora È È Solo Una Fontana D'acqua La Forge Isolata Interessante Armi Di Stato Che Stato Stato Che Che Stato Stato Guarda C'è Un Dial Nel Stato 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 Dallo stesso lato Forse sì, aspetta Ok Ah, se lo tenevi piano Andava molto più Non giravano tutti assieme, ho capito Mamma mia, quanta luce però in sto gioco Lo scudo del cavaliere Hai ottenuto un nuovo scudo, Pippo, sei felice? Beh, abbiamo ottenuto Un nuovo equipaggiamento Il che non è male Uno scudo usato dai cavalieri in battaglia Bene, mi fa piacere Che poi questa è la forgia dove Dove Kratos si incontra E festo Se non dico cavolate Penso di sì Eccoci qua E guarda un po' questa cosa Era nascosta Oh no Non mi colpirai Aiuto L'importante è che non facciano sempre La cosa dell'armatura Secondo me La cosa dell'armatura La fanno a questo punto Quando il gruppo è grosso Se il gruppo è piccolino Comunque ristretto Non lo fanno Non so dove tu stessi mirando Però abbiamo vinto Cos'è? Ah, ok Posso saltarci su Interessante I passi aeri Mentre agganci i nemici Con il reticolo tiro Puoi anche premere quadrato Per spostarti istantaneamente Dal punto che hai inquadrato Questa è la tecnica Passi aeri Useremo il mio nuovo attacco Ovvero agganciare le cose Wow Ammetto che è stato più semplice Di quanto credessi Ah, ma mi devo spostare Fin lassù Ma gioco Dai Spiegati meglio C'era quel grosso pacco regalo Messo lì Io non capivo Eccoci qua Oh, che bello C'è il titano anche del tornado E della lava Vabbè, quello della lava L'avevo visto Quello del tornado Ci speravo Non c'è il ciclope Vabbè, non è Niente di Di così importante Il ciclope Però Va bene Ade Noi siamo qui Per fermarti Stiamo arrivando tutti Quando uscirò di qua Ti faccio E invece È arrivato Ercole E anche noi Sono qui per salvare Mio padre E gli altri dei Prendeteli Io spero che faccia la music Nel film Prende Il tornado E li assorbe tutti Ti prego Fallo Ok Non lo Lo spero che lo faccia Dopo questa battaglia Allora Ok Ghiaccio Fuoco E vento Ai via Aiuto Aiuto Vai Bippo Complici Sicuramente C'è un metodo più facile Per farla Sta cosa Seconda fusione Però Sono un po' Inermi C'è come Titani Non sta facendo Molto No Da questa parte No No Cavolo Si è Mi sa che Devo andare un po' Equilibrio Perché se attacco Solo In uno Poi l'altro Secondo me Torna in vita Dove Castillo Stanno succedendo cose Stanno succedendo cose Che secondo me Non dovevano succedere Ragazzi La telecamera Però Dove Qua Dai Cavolo Il carosello Magico Attrazioni Carosello Magico Pre-X Quando il cerchio Di luce Che si allalga Si sovraprome Alle circonferenze Esterna Ok Ci provo Non ho capito Un cacchio Ma va bene Merda Ah ok Wow Che attacco Magnificenzo Tanto cielo E' stato così Magnifico Che quasi Mi sono perso Ok Quello del ghiaccio E' andato Manca solo Quello Della lava Bombardieros No Faiato Attacco E' qua Il problema E' che in questa fase L'unica cosa che è Colpibile E' la loro Cavolo di faccia E Pappenino Mi cura sempre Nel momento in cui Io mi curo Grazie Donald Di qua Sora Dai Dai Che ce l'abbiamo fatta Sora Non adesso Per favore Vai Vai e colpisci Ancora No 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 Sora Te le trasportati E basta Guarda Dai Che cacchio Non è difficile Mania Non era difficile E alla fine Quello del tornado Adesso lo prende Ercole E basta Non succederà Nient'altro In realtà Manca anche il ciclop Ma fa niente Ah Wow Combattiamo veramente Io credevo di no Si sposta Come Ok Quindi il suo corpo È tangibile Cioè Lui è Effettivamente Fatto di strisce nere Che vordicano Però veramente Sono molto inermi Cacchio Si è spostato proprio ora Cosa sta succedendo Dove mi hai portato Ah Devo evitare i colpi Ahia Wow Però è bello Gli altri dove sono Scusami Però questo titano Mi sembra poco convinto Mi sembra un po' Che lo stia facendo Controvoglia Ma io non volevo Essere qua Io non sono cattivo Aia Eccoti qua Questo combattimento Però È in quanto Lungo Usiamo anche Il visore blaster Perché se no Dove Dove sei Dio 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 Dai Ce la stiamo facendo Molto strano Però ce la stiamo facendo Devo mettere Nelle impostazioni che Quando uso questa roba È invertita Dai, dai Ce la stiamo facendo Sora, tu riacquisterai Riacquisterai Tutti i tuoi poteri E vinceremo insieme Guardate la maglietta che bella Vai Ercole Ora è il tuo momento So what? There are four of us, too Actually, I think I can make it five Grazie, figlio mio Thank you, my boy My boy Now watch your old man work Oh no, è Zeus Aia, aia Cazzo scappiamo Scappiamo ragazzi Andiamo via Tu dove vai Che adesso vi assorbo Tutti in uno Questa scena nel film È bellissima È la cosa più bella Di tutto il film Questa No, dai Poteva Far vedere almeno l'interno Sono tutti miscolati I can't believe it I put 80 years into that planet You've probably ruined it I really don't like you Just give it up already You'll never beat Hurt No matter how many times you try Yeah, stay in the underworld Where you belong Ma perché Paperino Fa ste battute del culo I did not come this far To be ridiculed by Zeus The high and mighty His little sunspot And a trio of clowns You know what I'll just go ahead And destroy you Zeus fa qualcosa The exit is that way Oh 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 Hold on I almost forgot Don't get a little nutmegger And a river of death No, vabbè È stato È stato bellissimo Grande Zeus Are you sure you want to leave all this behind? Isn't Olympus your home? I can see my family anytime I want If I stayed I'd have to be apart from the person I love most And that life would be empty Bravo I finally know where I belong Hercules Casa è dove sta lei E io sto con lei Sora We never got back to your question Can I help? Mmm It's okay I think I'm meant to figure it out for myself I'll find my strength the way you found yours Something to fight for With all my heart Kairi Hmm I guess you did have the answer Well You've got heart, Sora Just keep at it And I know you'll be stronger than ever Yeah I might even end up stronger than you are Eccolo là Abbiamo già completato il nostro limpo Bravo Origine eroica Il kiblet che potenza di attacco fusione contro scudo Scontro divino La fusione dei kiblet Alcuni dei kiblet che otterrai possono cambiare forma Quest'azione è chiamata fusione Grazie Ogni kiblet può effettuare determinate fusioni Durante una fusione i kiblet avranno accesso a combo incantesimi diversi E anche una potentissimo colpo di grazia che potrai eseguire premendo triangolo La fusione dei kiblet Quando esegui una fusione del tuo kiblet l'aspetto di Sora cambierà di conseguenza E avrai accesso a un nuovo set di abilità specializzate Alcune fusioni sono particolarmente utili per la fase difensina Alte per lanciare incantesimi Sperimentali tutte e troverai quella che si adattano meglio a ogni situazione Va bene Contro scudo Grazie alla fusione dei kiblet di origine eroica Può trasformarsi in un'arma speciale nella difesa chiamata contro scudo Durante la fusione tieni premuto quadrato per proteggerti dagli attacchi nemici Per un intervallo prefisso di tempo Quando blocchi gli attacchi nemici carichi il tuo scudo fino a un massimo di due livelli Premi X mentre lo scudo è caricato per eseguire un contrattacco speciale La cui potenza è varia a base della carica Ok Prova a equipaggiare il nuovo kiblet Ma va? Davvero? L'avrei già fatto Come cambiare kiblet? Grazie questo lo so già E ok Però posso mettere un'altra arma Ok Ok questa cosa delle terza e seconda Della seconda e terza arma devo capirla Però ogni cosa avrà suo tempo immagino Vediamo se hanno trovato la scatola Cacchio l'ho trovato? Cacchio l'ho trovato Cacchio l'ho trovato? Ah ecco è lo scrignone di Pandora quello Però è la scatola di Pandora Va bene Si è interrotto così di botto Non sono stato io Ed è stata strana la cosa